C'era una volta un pezzo di legno, era un semplice pezzo di legno da catasta, uno di quelli che durante l'inverno si usano per accendere la stufa o il camino. Il mio amico maestro Ciliecia mi ha regalato questo pezzo di legno. E come si chiama? 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 Pinocchio, accompagna tu Pinocchio a scuola. E io oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere. Oh che bravo! Domani imparerò a scrivere. Oh che bravo! E domani l'altro imparerò a fare i conti con i numeri. A chi si permette di interrompere il mio spettacolo? Loro! Dai retta a noi Pinocchio! Sì, sì Pinocchio, da retta a noi. Ma nel paese dei ballocchi, bambino di regno. Paese dei ballocchi? È un paese dove non ci sono le scuole. Non ci sono le scuole. Dove non ci sono le maestre. L'esilizione di un'artista 1 nel suo genere che solo il nostro Ciliecia può portare tra i suoi artisti. Io ho tantissime cose da raccontarti però prima dobbiamo trovare il modo di uscire da questo pesce. Certo che ero proprio buffo quando ero un burattino. Ciao Pinocchio! Grazie!